la maglia autografata di leao per provare a vincere qui sotto le tre cose da fare scaricare gratuitamente da questo link l'app numero 10 seguire su instagram mv maglie e portare qualche scritto al nostro canale youtube una delle ultimissime occasioni per provare a vincere dunque scatenatevi prezzo poi pezzo poi che è da incorniciare allora ragazzi ben ritrovati come è stato un saluto a tutti ci avviciniamo alla gara di domenica sera e io chiedo ripeto tre punti domenica sera nulla di più visto che è stata una settimana molto travagliata e non è ancora finita in questo senso mi raccomando commentate numerosi lasciate un bel like se volete anche voi una bella vittoria domenica sera mi piace vedere 10.000 like sono molto scaramantico iscrivetevi qui se avete ancora fatto siamo a un passo dai 101 mila e quindi potresti essere tu il numero 101 milan la carica dei 101 milan allora andiamo subito alle novità c'è un articolo che un po mi preoccupa dobbiamo fare poi delle precisazioni purtroppo però tocca tocca aprire con con la non so come definire la sfortuna malasorte fatto purtroppo l'infortunio di ciucquezze che non ci voleva proprio cioè non ci vuole mai l'infortunio di un giocatore però proprio ciucquezze vero che non è un titolare però per il suo percorso insomma non è una bella cosa ricordiamo che è stato l'acquisto pioneroso 20 più 8 di bonus fin qui tra i nuovi con Jovic ovviamente ha giocato molto poco è quello che ha fatto meno rispetto alle aspettative io lo dico era quello che in estate mi faceva impazzire l'operazione dico caspita che bello è chiaro che poi ha fatto vedere qualcosa ma ancora poco di quello che poteva fare stava crescendo di condizione sarebbe stato molto utile avrebbe giocato sicuramente nelle prossime partite perché ora ricordiamo abbiamo in una settimana Juventus in casa PSG in trasferta Napoli in trasferta quindi avrebbe dato sicuramente un tour di riposo a Pulisic dispiace anche per lui perché questo ti interrompe un po' anche la condizione che stavi trovando la fiducia ed è una botta starà fuori fino alla prossima sosta quindi un mesetto un gran peccato e ancora una volta ancora una volta le soste prenazionali ci portano via giocatori sembrava l'avessimo scampata ieri in serata questa notizia che dici vabbè poi è successo anche ad altri eh Danilo per la Juventus anche altri però una volta che la stavamo per scampare pam no ciucquezze ed è un infortunio serio un mesetto un mesetto non è poco vedremo sarà l'occasione per vedere Romero qualche volta in più per il resto non so se Caffor può giocare anche sulla destra se siamo tutto Salema che sarebbe giocato lui come alternativa Pulisic che non può giocare sempre ovviamente e ha giocato anche due partite con la nazionale facendo anche un gol e un assist nell'ultima gara per questo un in bocca al lupo a Ciucquezze tra un mesetto poi siamo a novembre insomma avrà il mese di dicembre per mettere in mostra prima di andare poi nella seconda parte di stagione da gennaio in poi ricordiamo un'altra cosa però eh che caspita no devo ricordare un'altra cosa ragionando insieme a voce alta mi è venuto in mente che lui a gennaio farà la coppa d'Africa quindi insomma noi lo vedremo a dicembre poi a gennaio farà la coppa d'Africa porca miseria non ci voleva proprio non ci voleva proprio questa cosa mi ha rovinato un po' un po' tutte le belle sensazioni di campo di classifica dopodiché se vinciamo domenica questi tre punti mettiamo la spunta verde va bene così però peccato 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 non ci voleva proprio cambiamo argomento il lo scandalo il mega scandalo scommesse ribadisco quello che ho detto ieri corona ha fatto i nomi l'altro ieri poi sono stati diffusi ieri di casale gatti e il terzo e sciarawi dalla procura ieri trapelava che questi tre da quello che risulta la procura non c'entrano per questo dico non prendiamo però roccolato tutto ciò che esce dalla bocca di corona ok l'indagine si fa qui corona è qui e e ha interesse anche aprire le verifiche non le ha fatte come su Zaleschi eccetera 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 capitolo legato a tonali oggi credo che avremo qualche informazione in più precisiamo subito una cosa poi veniamo un articolo che un po' mi preoccupa eccendo una spia allora tonali precisiamo una cosa avrebbe detto di aver giocato soltanto partite in cui lui non scendeva in campo in cui quindi non aveva possibilità di alterare di persona il il risultato della partita no di condizionarlo quindi dovrebbe essere escluso da quello che lui ha detto agli inquirenti nella giornata dell'altro ieri di il cito sportivo che riguarderebbe però al momento soltanto lui eventualmente con una squalifica più importante al di almeno quattro anni poi è chiaro che se collabora eccetera di mezzi e poi avere degli sconti sono fatto a vedermi per curiosità e ripeto ve la riporto come pure curiosità poi veniamo a questo articolo che mi preoccupa un po' la situazione lo scorso anno cioè quando tonali non c'era lui lo scorso anno ha giocato tanto 34 partite di serie A 12 di champions una di supercoppa italiana una di coppa italia di fatto 6 del girone 8-10 di champions le ha giocate tutte coppa italia supercoppa le ha giocate che cosa ha saltato quindi ha saltato qualche gara di campionato spero a livello etico già non è bello così si champions le ha fatte tutte a livello etico non è bello così spero che non si debba poi sapere che lui non ha giocato una vittoria del Milan cioè se giochi devi giocare la vittoria del Milan se hai giocato tra virgolette contro al Milan perché pensi che avrebbe pareggiato pareggiato avrebbe perso pareggiato sarebbe ancora peggiore ma non per un regolamento per per un discorso proprio di di appartenenza di valori proprio quelli che ci aveva anche trasmesso lui con dichiarazioni con gesti la famosa letterina Santa Lucia ebbene guardiamo così per curiosità perché adesso non abbiamo gli altri elementi lui quindi se ha giocato dice di avere giocato su partite in cui lui non scendeva in campo ci sono queste opzioni la prima era sempre per un problema fisico Milan-Udinese 4-2 quindi una vittoria la seconda Milan-Monza 4-1 un'altra vittoria e poi il 14 gennaio squalificato per somma di ammunizioni Lecce-Milan 2-2 un pareggio in un momento delicato poi è assaltato anche l'1-1 col Bologna il 15 aprile quindi è assaltato queste quattro gare di cui due pareggiate e due vinte vedendo un po' anche la possibilità di gialli pilotati lui ha preso il giallo con l'Inter in campionato con lo Spezia con la Serenitana e con la Roma poi Napoli Lecce e Samp insomma non ricordo tutti questi gialli le partite quindi non so se qualcuno accende qualcosa spero di no sono quelle che ho appena detto la cosa brutta poi è che ora non ci fideremo più vedremo un episodio strano ammunizioni strane ah caspita qui questo è un danno che hanno fatto tutto il sistema calcio e il rapporto tifoso calcio ed è un peccato ripeto spero che abbia giocato almeno sulle vittorie e non sulle sconfitte sarebbe a livello di immagine ulteriormente brutto ho detto che comunque oggi l'immagine non è comunque bella l'articolo che mi mi ha un po' un po' allarmato è quello che è stato scritto pubblicato ieri sera su fanpage che è testata giornalistica lo ricordiamo il titolo è questo Newcastle furioso col Milan per le scommesse di Tonali può finire in tribunale c'è un sospetto il Newcastle sta monitorando con interesse il caso scommesse in particolare gli sviluppi su Tonali che ha ammesso di aver scommesso anche sul Milan i bianconeri hanno un sospetto sull'operazione di mercato della scorsa estate nel dettaglio vado al pezzo più importante il Newcastle ora sta prendendo in considerazione tutte le sue opzioni legali in merito alla situazione di Tonali pur garantendo il prossimo sostegno al ragazzo c'è la volontà di capire il da farsi per quella che potrebbe essere una vera e propria beffa una lunga squalifica da scontare anche oltre mani che rappresenterebbe una mazzata per i bianconeri di Inghilterra che nella scorsa stagione estate hanno sborsato più di 60 milioni di euro per strappare il centrocampista al Milan in un auto ufficiale ieri hanno confermato sostegno alla famiglia a lui eccetera eccetera in pratica in questi giorni Newcastle cercherà di determinare cosa è successo la scorsa estate l'obiettivo è quello di capire se il Milan sapesse della situazione di Tonali e sia i rossoneri che il calciatore fossero venuti a conoscenza dell'indagine sul gioco d'azzardo illegale prima della finestra di mercato estiva questo è il sospetto del club inglese relativo al fatto che il Milan abbia potuto vendere all'inglese un giocatore che già si sapeva coinvolto nel caso scommesse e quindi a forti rischi squalifiche d'altronde anche i tempi dell'indagine su Fagioli risalgono la scorsa primavera e quindi anche il nome di Tonali potrebbe essere emesso negli ambienti investigativi nello stesso periodo per ora si tratta solo di ipotesi per un Newcastle comunque furioso e pronto a finire in tribunale spinto dalla prospettiva di perdere un giocatore per il quale ha investito una cifra record quindi quello che scrive fanpage il Newcastle ci vuole vedere chiaro sente puzza di bruciato e sospetta che magari il Milan lo ha ceduto sapendo del il sapendo del è vero che su Fagioli c'era un discorso aperto da un po' è vero anche che Fagioli probabilmente il nome di Tonali l'aveva fatto dall'inizio però nulla era emerso anzi finché non ne parla Corona qualche giorno fa nessuno era conoscenza di questo di questo filone di inchiesta dall'altra parte ecco secondo me è l'unico o ci sono prove ma mi escludo che ci siano delle prove per me per me non è così a meno che Tonali nei collochi con il Newcastle dica il Milan sapeva sarebbe un effetto shock perché a quel punto non solo Newcastle aprirebbe un discorso di risarcimento ma aprirebbe anche un discorso di responsabilità del mio che a quel punto saprebbe però voglio dire una cosa ci sta che loro ora facciano le considerazioni facciano uscire certe cose è vero con il secondo poi magari qualcuno ha pensato non è che magari ho pensato anch'io all'inizio però poi una cosa mi ha fatto riflettere il Milan se avesse saputo che Tonali sarebbe stato squalificato di lì a poco alla prima offerta avrebbe detto sì prendetelo ve lo porto ecco ve lo porto la io invece il Milan a prima offerta dice no c'è comunque una trattativa per arrivare al prezzo richiesto e mi sembra ecco a livello di logica perché non abbiamo elementi in mano una contraddizione perché se poi Newcastle dice no allora niente cosa fai te lo tieni insomma è una vicenda che presta mille interpretazioni retropensieri sospetti veleni vediamo poi che cosa riusciranno a capire se proveranno a capire qualcosa ripeto l'articolo di fanpage Newcastle fuoriso col Milan per le scommesse e vediamo perché sicuramente c'è un pagamento che deve essere ancora completato e c'è il rischio che magari loro congelino una rata in attesa di capire che puntini puntini e si può prendere davvero un contenzioso analizziamo ovviamente il tutto su tonali ecco l'attenzione che c'era anche da parte nostra purtroppo era corretta su questa vicenda la riportiamo io la prendo la leggo la prendo la commento con voi e dico però nel caso l'avrebbero ceduto subito no? mi sembra che questo è normale e poi comunque non è che l'hanno ceduto per 15 milioni alla fine per 70-80 milioni di euro rispetto ai primi 50 che avevano offerto la trattativa c'è stata e ha fatto aumentare l'offerta ditemi che cosa ne pensate di tutto questo sicuramente speriamo di tenerci soldi non essere anche noi coinvolti da sospetti tribunale eccetera eccetera per il resto su quelle partite speriamo che abbia giocato bene a quel punto nel senso che comunque ha fatto malissimo lo ribadisco è una cosa che mi ha deluso profondamente spero solo che non abbia giocato sulle sconfitte per quanto riguarda le partite però perché giochi sul Milan quando non ci sei perché forse ritieni di avere informazioni utili vivendo lo spogliatoio per capire magari lo stato di forma della squadra per capire come finisce la partita cioè ad esempio la gara con il Lecce che lui non c'era noi la pareggiamo dopo la gara con la Roma che ci hanno rimontato magari lì aveva visto qualcosa nello spogliatoio quella settimana lì non fatto bene allora gioco il pari non lo so non volevamo neanche arrivare a questo punto perché ci hanno fatto arrivare a questo punto di sospettare su qualsiasi cosa vedremo quali saranno le partite e purtroppo ciucquezze ragazzi fuori un mesetto non ci voleva proprio commentate datemi il vostro punto di vista lo leggerò sempre con grande attenzione mi raccomando civiltà e rispetto lasciate un bel like se volete una bella vittoria domenica sera e iscrivetevi qui un abbraccio e iscrivetevi qui